Amici bellini, eh lo so, lo so, secondo video lo so, perché voi siete, qualcuno di voi è in dad, lo so, magari potete metterlo in sottofondo, poi ve lo sentite meglio, lasciate il like a prescindere, ma volevo approfondire questa cosa e non volevo mischiarla, non volevo infangarla con l'approfondimento tattico, con le idee, perché è peccato, è peccato, poi i video diventano lunghi, diventano pesanti, non vorrei questo, quindi cominciamo. E' un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori, non mi ricordo come mi chiamo, comunque vi ringrazio per i like lasciati per i record distrutti e frantumati e vi invito ad iscrivervi al canale, se siete nuovi, se siete capitati per caso, perché l'algoritmo sta impazzendo, vi invito ad iscrivervi al canale perché siamo praticamente lì, siamo lì lì, a 7500 io vi ho promesso una giveaway e quindi per partecipare alla giveaway dovete essere iscritti al canale e essere iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, c'è il link, vi iscrivete al canale Telegram, quello serve per le notifiche perché molto spesso i video non partono, non arrivano, quando siamo in tanti è difficile per YouTube starci dietro e quindi la community si muove copiosa e diretta verso l'obiettivo. 7500 io vi regalo una di queste magliette qui, una di queste cose qui, vediamo, vediamo, ci mettiamo d'accordo, il vincitore si metterà d'accordo perché bisogna sapere la taglia, bisogna sapere le preferenze eccetera eccetera, quindi è importante, è importante, voglio ridarvi un po' di affetto di quello che voi mi state dando, ma dobbiamo parlare di questa situazione del rigore e di Donnarumma, le frasi, siete una banda eccetera eccetera, perché le due cose sono collegate. Dal video, insomma non ve lo posso far vedere bene, ma insomma sapete come funziona qua, dal video si vede che già in occasione del rigore poi non dato e il fallo grave, brutto, brutto, brutto di Teo Hernandez al limite del rosso, ma non voglio esagerare, sicuramente un fallo arancione se ci fosse il cartellino arancione, Donnarumma già comincia l'attacco con qualcuno della panchina, non ho capito a chi si riferisse, ma già comincia una serie di polemiche. E quindi queste polemiche poi sfoceranno a fine partita ancora ad attacchi pazzeschi e poi il microfono prende questa cosa qua. Che si sente proprio bene, insigne se lo deve tirare eccetera eccetera, allora io feci pure una live con l'amico Valeriani che dice ma voi napoletani è uno schifo, non vi dovete attaccare Donnarumma, quello ha dovuto fare pure... Non è questa la voce di Valeriani, ma comunque ha dovuto fare le scuse perché i napoletani eccetera eccetera... Sì però Donnarumma è stata purtroppo accorta a non esagerare perché è così e ci rifai, allora ci rifai spesso. Si, si rifai spesso. Allora ce lo vuoi proprio. Cioè nel senso uno può pure chiudere un occhio e dire vabbò hai fatto il video personale per tuo zio e stai sfutten eccetera eccetera ma fammo quello che disse, disse va bene, ma se poi insisti e te la prendi proprio con la squadra Napoli dice siete una banda e prima di tutto come ti permetti che la banda è una cosa meravigliosa, è una cosa sublime la banda di musica è qualcuno che ha studiato musica, che conosce lo strumento, che legge uno spartito, che segue gli ordini di un direttore d'orchestra ma come ti permetti di dire banda di musica con accezione negativa? La banda di musica è una cosa nobilissima, spettacolare, la banda di musica è il mio mestiere fare musica in una banda, in una band quindi sei già un brutto modo di insultare eccetera eccetera e poi ti accanisci, siete nervosetti allora io voglio sentire c'è il problema anche del... perché di solito quando si perde poi si parlano anche delle altre cose il contratto di Donnarumma e i giocatori che devono rinnovare, che scadono nel 2022 anche che sì, Maldini ha detto dobbiamo rinnovarne un sacco di loro, stiamo lavorando ma ancora non ci siamo riusciti dovete confrontarvi con tutte queste cose perché io apprezzo tantissimo la figura di Maldini e quello che ha svoltato insieme a Ibra la stagione del Milan, tutto bene ma come vedete tutte le squadre hanno di questi problemi quando si perde, eh però Maksimovic non teno contratto quando si vince, you say, grande partita senza contratto allora vedete che quando c'è un obiettivo comune, quando la squadra si decide a lottare compatta non ci sono contratti che tengano, non ci sono problemi tutti lottano per l'obiettivo comune che deve essere e ieri secondo me mi è sembrato palese, perde la Roma, il Napoli voleva questi tre punti sulla Roma ragazzi è importantissimo, devi dimostrare che non è che anche la questione polemica della partita slittata con la Juve la Juve ha risposto bene con il 3-0 netto sul Cagliere 3-1, 3-1 sul Cagliere il Napoli anche doveva rispondere perché altrimenti, allora vedete, siete voi che avverate paura la Juve sta bene, il Napoli sta male il Napoli ha dimostrato di star bene il Napoli ha dimostrato di esserci e di volerci lottare, voler lottare fino alla fine vogliamo vedere questo rigore? bene, vediamo il rigore, ma non c'è problema per me, io l'ho detto in live e lo ribadisco dopo averlo visto al microscopio Takayoko è ciuccio ed è pollo ed ha rischiato tantissimo di fare la frittata il pollo fa la frittata, fa l'uovo, fa ovviamente la frittata detto questo, dobbiamo finirla, perché? perché l'attaccante deve dimostrarmi che ha intenzione di andare sul pallone e il suo obiettivo deve essere prendere il pallone e giocare la palla per fare gol l'intenzione dell'attaccante non può essere quello di cercare magari il contatto e subito buttarsi a terra e questa è una cosa che dico anche ai miei, non lo dico sempre agli avversari lo dico anche a Lozano, perché lo stesso Lozano molto spesso fa un movimento dove si mette avanti e prende i falli, distribuisce cartellini gialli è molto più veloce Lozano degli altri, quindi si mette davanti al pallone, non c'è niente da fare però in questo caso stai anche di spalle alla porta appena senti il tocchettino che secondo me c'è, secondo me c'è, chiariamo subito la cosa stracelli a terra, ovviamente, e quindi accentui tantissimo l'accentuare molto spesso viene punito dagli arbitri perché gli arbitri, e lo stiamo dicendo da parecchie settimane vengono costantemente ingannati dall'atteggiamento dei giocatori in campo tic, aaaah, mamma mia, il sangue, aaaah, come sa fare la mano in capo, cioè prendono un colpo qua, si mettono la mano in fai questo atteggiamento agli arbitri dà fastidio perché ne va della loro carriera ne va, vogliono fargli commettere degli errori non si può fare allora, a questo ci aggiungi che subito dopo questa cosa qua a parte che prima c'era una spinta a due mani di gabbia su Osimen che lo putta fuori dal campo Pasqua sapeva, quella cosa forse la potevo chiamare era al limite Pasqua non dà niente e quindi si arriva poi a quello quindi già parti da questo presupposto in secondis arriva il fallo di Teo Hernandez che poteva essere anche da rosso ovviamente diventa da giallo perché si sente anche in colpa per l'eventuale rigore dopodiché monta questa cosa il rigore, il rigore ciccio, ciccio, il rigore, il rigore Pasqua, ciccio questo accendo anche milanese Pasqua, Pasqua è rigore è rigore è rigore è rigore dai, fuori il rigore è rigore Matteo, ciccio, è rigore 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 guarda che è rigore dai Pasqua ciccio, è rigore rigore vai, vai, vai rigore 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 Ragazzi sono stati tedianti e lì secondo me prima di tutto errore cioè Mazzoleni se Pasqua ha visto Pasqua ha valutato e non si può decidere l'entità con il VAR Pasqua ha visto ha valutato stat buoni il VAR non può intervenire più Mazzoleni lo chiama quindi cercando di ovviamente di confermarsi il Mazzoleni che è Pasqua va a vedere lo vede dice questo non è niente questo è il toccatino questo non è abbastanza e credetemi se non ci fosse stato tutto quel Ceccio dai è il rigore Pasqua vattene eccetera eccetera se non ci fosse stato tutto quello probabilmente che ne sai Magari Pasqua dice il tocco c'è eccetera eccetera si può dare e non si può dare questo si può dire si può dire si può dare e non si può dare Non si può dire rigore netto non si può dire l'odocca duro non si può dire lo stroppea eccetera eccetera vigoria Imprudenza non si può dire niente di tutto questo si può dire solamente che si può dare e non sarebbe stato uno scandalo E si può non dare e non può essere uno scandalo queste sono le due opzioni Dopodiché se vi piace insultare gli arbitri poi arriva l'insulto di Rebic poi arriva un'ammunizione a gattuso che non ho capito nemmeno perché Subito dopo il fatto del non rigore col VAR se così vi piace può anche capitare che un arbitro a un certo punto Dice ma sai che c'è di nuovo nel dubbio non te lo do così mi imparate a rompermi i coglioni a stare sempre addosso eccetera eccetera Perché l'arbitro così si sente per tutte le partite questo valga per noi per gli avversari per tutti Tutti i giocatori di serie A cercano di ingannare l'arbitro e l'arbitro è portato a fare errori per questo Quindi io sono parecchie partite anche contro di me che mi sono messo a favore degli arbitri per questo motivo Poi gli arbitri fanno cose strane e quindi noi le sottolineiamo, le vediamo, ci incazziamo e ne parliamo perché siamo tifosi Ma se la vogliamo vedere dall'esterno, i tifosi esterni che sono intervenuti anche ieri sulla live hanno detto Ma io sinceramente non ci sta niente strano, anzi negli highlights della serie A questo episodio non esiste nemmeno Quindi veramente stiamo parlando del nulla ma era un video che era probabilmente dovuto Visto le polemiche perché poi a Sky se si deve parlare del fatto di Ronaldo Ah non si può dicere, non si può dicere, cartellino forse di un altro colore Però non si può dicere cartellino rosso a Ronaldo, non si può dire Allora Marocchi dice subito non ne usciamo più Non ne usciamo più perché ci può stare il giallo, ci può stare forse qualcosa di più Però non ne usciamo più, è meglio che dico che non ne usciamo più Perché non si può dire che Ronaldo meritava di essere espulso Perché non c'è cosa più grave che prendere coi tacchetti in faccia U Gli stai stracciando la faccia, prende braccio, spalla e faccia, sangue eccetera eccetera Più di questo deve fare uno per essere espulso, non ho capito Il karate, il piede in faccia così, non lo so, non si può dire, si può dire al massimo E forse ha rischiato forse un cartellino di un altro colore Però poi Ronaldo risponde sul campo alle critiche e non va a parlare Ci rendiamo conto che la differenza che a me fa più male non è tanto gli arbitri La disparità degli arbitri perché fanno degli errori, perché sono portati a fare degli errori Il problema sono quelli che ne parlano in tv Che per qualcuno sfogliano, cercano, giustificano Basta l'intenzione del fallo Meret anche se non lo tocca, Meret deve essere espulso Perché basta l'intenzione del fallo Non serve che lo tocchi, va benissimo Espulso, tutto giusto Non fa niente che Ronaldo si sta mantenendo la caviglia e sta simulando Quando non è stato preso e stava volando L'intenzione del fallo basta Ronaldo in faccia così Sai, ha rischiato un pochino Lui voleva prendere il pallone, ovviamente La palla contesa, il gol conteso in aria Certo, probabilmente, non lo so Al centrocampo magari l'espulsione ci potrebbe, però I rumori Da New York, Valerio Fluido è tutto Se ve lo siete visti tutti lasciate un commento sotto scrivendo Sono il tuo eroe Perché siete il mio eroe Perché ci sono delle cose che uno si può godere solamente a fine video Perché i video miei, non è che io mi metto la registra Quello che mi esce, mi esce E questo è questo canale Poi, dipende da voi Amici bellini, siamo arrivati a 5.000 Bravi, bravi Ma adesso abbiamo un altro obiettivo Sono i 7.500 Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse Iscrivetevi al canale Mamma, oi, c'è stato tasto No, mi ricordo come mi chiamo No, mi ricordo come mi chiamo